Bene, a questa edizione del Kia Rimini, Goodway presenta il capostipite di una nuova generazione di inverter ibridi trifase, l'ET con potenze tra i 15 e i 30 kW. Quindi è una macchina, un trifase ibrido, in potenze, quindi come detto, tra i 15 e i 30 kW, che lavora con le nostre batterie alta tensione LinkSafe. Rappresenta l'evoluzione della nostra macchina consolidata ET, proprio perché ci affacciamo in questo modo al mondo commerciale piccolo-industriale, dove vediamo sempre di più una domanda crescente di soluzioni per l'accumulo di energia. Dicevo che questo è il capostipite, nel senso che ci sarà un ulteriore ampliamento del range, quindi arriveremo anche ai 50-60 kW con l'evoluzione di questa macchina e questi li presenteremo nel corso del prossimo evento all'InterSolo. Da sottolineare il fatto che queste macchine andranno in certificazione sia C021 che C016, quindi per connessione sia media che bassa, che ci favorirà nel poter utilizzare queste macchine su impianti anche di taglia significativamente grande. E' chiaro che questo non fa altro che sottolineare l'impegno che Goodwee ha sul mondo dell'accumulo di energia, anche perché a seguire, seguirà la nuova generazione delle nostre batterie LinkSafe, generazione 2, che avranno ulteriori performance, la capacità di essere messe in parallelo e un'ottimizzazione dei costi significativa che ci permetterà di promuovere la soluzione combo sicuramente con successo sul mercato.